Simone Iocolano, torniamo al match contro il Pavia, bene porti ancora i segni, avete dimenticato questa sconfitta che insomma non ci stava proprio tutta. Sì, purtroppo abbiamo perso dei punti importanti, potevamo pareggiarla e non ci siamo riusciti, però il calcio è anche questo, purtroppo. L'importante è che abbiamo fatto un'ottima partita con la mentalità giusta, siamo entrati in campo per comunque giocarcela a viso aperto contro un avversario forte sia sulla carta che poi sul campo, come si è dimostrato. Però ormai abbiamo girato pagina, c'è un altro partito importante sabato e cerchiamo di riprenderli qua i punti. Parliamo proprio di questa partita, cosa vi preoccupa di più del vostro avversario? E' una squadra forte, compatta, hanno cambiato poco ma proprio a livello anno dopo anno cambiano sempre poco. Sono bravi, si sono ripresi tanto con il nuovo mister, quindi andiamo a affrontare ancora una volta una squadra forte che sicuramente cercherà di metterci in difficoltà e proverà a prendere qualche punto anche loro in casa nostra. Si dice sempre che non è la vettura della classifica che conta, noi facciamo un altro campionato, però ormai un po' vi siete abituati, volete riprendervi? Beh, è bello stare gli dati alla fine e lottare comunque sempre per la prima posizione. Diciamo che non è la nostra priorità, noi cerchiamo di vincere le partite per noi, per i tre punti, poi è logico che se arriva di nuovo al primo posto è tutto di guadagnato. Grazie. Grazie.